Eccoci, sono felicissimo insomma di rannunciarvi insomma al camp dei portieri che faremo a Cavernago il 9, 10, 11 di giugno al pomeriggio. Questo camp sarà per bambini dai 5 anni ai 16 anni, maschi, femmine, chiunque ha voglia di divertirsi, noi, io, Dario Caglioni e il nostro staff sarà lieto insomma di accoglierlo e di farlo divertire perché davvero per noi, per me, il portiere è un ruolo meraviglioso e spero di riuscire a trasmettervi tutto questo amore che ho per il ruolo. Spero di vedervi numerosi e a presto. Ciao!